Noi abbiamo parlato un po' del Salone del Mobile che funziona, del Made in Italy che tira ancora e però dal Sole 24 Ore tu ci proponi questo articolo e questa dichiarazione forte di Luca Paolazzi del Centro Studi di Confindustria che dice che è la crisi peggiore della storia. Datti ribaditi anche dalla CGA di Mestre di ieri che come sappiamo è uno dei principali studi di ricerca italiani. Sì, bisogna dire che la situazione in Italia in particolare è criticissima e torniamo ai motivi che abbiamo detto prima. Gli effetti sono drammatici perché se andiamo avanti di questo trend qua noi ci ritroviamo ad avere il decennio 2010-2020 con crescita pari a zero, cioè esattamente come 100 anni fa il 1910-1920 in cui l'Italia ebbe una crescita pari a zero. Altro dato importante è che in termini di reddito rispetto al 1997 noi ci ritrovavamo con un multiplo rispetto agli americani di 67 fatto pari a 100 al reddito americano. La prospettiva a 50 anni è di scendere noi a 37 rispetto a 100, quindi ridurre ancora della metà e ridurci a un terzo rispetto agli americani e ritrovarci a livello dei nostri partner europei quando nel 1997 abbiamo un rapporto di 98 contro 100 a 57, quindi dimezzare ancora i termini di reddito rispetto ai partner europei. Quindi questa è una situazione che non è mantenibile effettivamente, il nostro paese si sta deindustrializzando in maniera significativa soprattutto per i motivi che abbiamo visto prima e quindi la crisi non può che essere vista come un qualcosa di veramente detonante in particolare per la nostra economia. Ma come se ne esce? Con un governo forte che applica finalmente misure importanti per le aziende perché rilancino la loro attività e la loro occupazione o serve poi al di là di questo anche una grande ripresa globale? Bisogna uscire dall'euro, punto. Bisogna uscire dall'euro? Va benissimo tutto il resto. Ma non mi sembra che sia l'ordine del giorno di nessun politico italiano Beppe Grillo escluso. Quando poi i mercati lo decideranno ci si metterà tre giorni a farlo e lo si fa. Ma se usciamo noi escono in tanti? Noi moriamo, noi così stiamo morendo, non c'è una politica industriale necessaria e sufficiente a livello anche nazionale, anche un governo forte può fare limitatamente. La nostra storia bimillenaria dimostra che non siamo in grado di resistere a una parità di griglia monetaria rigida. Non lo siamo stati in passato, non lo siamo adesso. Mi stupirebbe veramente di vedere il popolo italiano fra 30 anni esattamente inquadrato come il popolo tedesco, quindi con le stesse efficienze che quegli altri hanno e noi abbiamo più fantasia, abbiamo più prodotti della natura, dell'arte, della cultura. Siamo un'altra cosa, stiamo perdendo. Tu pensa Cristiano che nei decenni prima dell'euro noi avevamo un incremento rispetto allo sviluppo del PIL di Francia e Germania del 2 al 3% in più noi rispetto a loro. Negli ultimi 12 anni abbiamo perso il 26% rispetto alla Germania e il 19% rispetto alla Francia. I 12 anni dell'euro. Sono numeri di aritmetica, non è economia. Se ci si vuole intestardire in questa cosa qui lo si faccia pure, ma ci si prende la responsabilità di chi lo fa per avere un consenso internazionale, per avere anche delle attribuzioni politiche nell'interno, dopodiché va benissimo, perché poi il discorso è ci conviene star nell'euro o no? Perché se noi ragioniamo in termini e ma se usciamo dall'euro la speculazione manda lo spread a 800 punti? Certo, può essere, però il presupposto è decidere se ci conviene o se non ci conviene. Quando poi abbiamo deciso che non ci conviene ma riteniamo di starci lo stesso perché siamo prigionieri e siamo obbligati a starci, è probabile che sia un'opzione da assumere questa, perché effettivamente i rischi di un'uscita, pur non convenendoci, potrebbero essere superiori a quelli della rimanere. Però in ogni caso bisogna essere chiaro in questo. Per la legge del contrapasso Paolo sta per essere eletto forse Presidente della Repubblica Romano Prodi, uno dei più grandi fautori dell'euro e dell'Europa Unita, soprattutto dell'euro perché lui all'epoca era il Presidente della Commissione Europea. Sì, direi che alla faccia dell'innovazione, mi pare che così ci ritroviamo veramente con la vecchia politica che ha preso rumbo. Prodi è sempre stato un grande europeista, non credo che sia colpa sua se l'euro ci ha portato a questa, però lui è sempre stato pro-euro. Ma un po' tutti in realtà sono stati pro-euro dal centro-destra al centro-sinistra. Sembrava una scelta inevitabile 12 anni fa. Il problema è appunto che sono state create delle condizioni di mercato artefatto per rendere inevitabile questa scelta quasi obbligata. In realtà siamo finiti in una trappola, non essendocene sostanzialmente accorti. Quindi se io a caso ho ancora in qualche scatoletta delle mille lire, 5 mila, 10 mila, 50 mila lire... Non le puoi più mettere all'incasso della Banca d'Italia perché sono passati dieci anni. Però io me le tengo, che se torna la lira... No, quelle diventano in termini numismatici. Poi io non immagino un ritornale della lira, immagino uno spaccamento dell'area euro in due sezioni. E quindi che moneta avremo? Non lo so, un euro due, un euro uno... Come la benzina. Sì, sì, finirà più o meno così. Come la benzina. Grazie Paolo. Arrivederci.